Siamo con Cristina Torrengo di Terra da Vino. Allora Cristina raccontaci un po', Facebook, Twitter, WordPress, li usavi, li usi, come ti trovi? Mi trovo molto bene perché li ho scoperti, in realtà non li usavo tantissimo, avevo iniziato a fare qualcosina ma adesso, soprattutto per questo evento, per questa occasione, abbiamo iniziato a utilizzarli in modo sistematico ed è veramente un mondo splendido, si possono fare un sacco di cose. Cosa ti aspetti dal blog Le Stelle si incontrano? Mi aspetto molto, nel senso che la sfida inizia ora e dovremo così ogni giorno scrivere, raccontare qualcosa, cercare di coinvolgere anche gli altri, gli chef e non vediamo l'ora che tutti insieme a questo team possa dare dei frutti. Grazie mille.